Siamo scienziati Siamo scienziati Io sono Molly Io sono Vattene Io sono Elena Alive Romagano Il prof Angelian E questa è Scienza di Inventante Dicono BBB Fatecele vedere Oh BBB Fatecele vedere Ma ce le abbiamo? Voi avete anche le immagini Ma diciamo ne ho qui qualcuna Che avvicino alla webcam Con la luce che c'è magari sono un po' più sbiancate Diciamo che in realtà sono un po' più gialline Ora forse le sta mettendo a fuoco meglio E sono diciamo Delle striscette di una carta particolare Che è imbevuta di una sostanza Che è in grado di colorarsi Di colori diversi In base a se entra in contatto Con sostanze acide, basiche o neutre Per capire un po' meglio qual è precisamente Il pH Quindi sulle confezioni ci sono queste scalette Con dei colori diversi E dei numeri Per vedere un po' come funzionano Ho portato qua ad esempio Due bei bicchieri d'acqua E poi Adesso mettiamo un po' di aceto In un altro bicchiere E adesso Facciamo la prova Anche qui il bicarbonato Lo useremo tra poco Per vedere come cambia E non abbiamo paura di usare il bicarbonato Non abbiamo paura di usare il bicarbonato A testimonianza che sono due bicchieri D'acqua identici Ora immergiamo qui la striscetta Per qualche secondo E pian piano si colorerà Ora immergo anche l'altro lato E poi la confrontiamo a breve Sperando che la telecamera Con la luce Non ci disturbi troppo Per vedere un poco Il colore che abbiamo ottenuto Ok E' effettivamente uguale All'altro i due lati Quindi effettivamente Era acqua uguale Esatto Potrebbe essere un po' più acido O basico Comunque a questo punto In uno dei due bicchieri d'acqua Vado ad aggiungere il nostro fantastico Bicarbonato Della scienza Quello del bicarbonato di scienza Esigete sempre e solo Bicarbonato originale Scienza divertente E andiamo a mescolare un po' Ora anche se non si scioglie tutto Il cambiamento dovrebbe Fra poco essere evidente Quindi ora con l'altra cartina Andiamo a misurare Da un lato il bicarbonato Dall'altro andiamo a misurare l'aceto E li andiamo poi A confrontare Che suspense Attenzione Allora Sono diversi Ma la cartina è la stessa Cioè il colore di base La cartina è esattamente la stessa E come vedete anche Sono tutte e due verdi Ma sono verdi di intensità differente Sì Mentre dal lato rosa Rosso Che cosa Che è successo? Che significa? Dal lato rosso Significa che L'aceto invece Per l'appunto È una sostanza acida Esatto Noi aspettavamo proprio il pomo Perché se lasciamo l'acqua tanto sul fuoco Inizia ad evaporare Diventa un gas Diventa una trasforma Nel suo terzo stato Il gas È un petto È un petto Il gasz Il gasz Grazie a tutti. Un dito per bota. È molto caldo, vero? È un nuovo dito. È un dito con l'acqua.